Elena, Elena, Ceso. Elena devi gridare più di me oggi, ecco, ma il dico... A caccia! A caccia! A caccia! Ciao Mirko! Ciao! Ciao Mirko! No, mi sono spirato! E' il signor Canasino? E' il signor Canasino. 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 Un signor Canasino. Si pleca! Si pleca! Pazzoli! No! Pleca, Rivoli! Ciao Luca! Buona Biella! Allora! Grazie a tutti! 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 bravi ragazzi eh porco moia non è affatto passare uno però non è affatto passare uno ma anche proprio leggermente c'era un muretto che non è una cosa qui ruba l'arrivoli le stelle le stelle le stelle la serivoli blocca occhio occhio a me biella vingi rivoli vingi rivoli vai rivoli ma che nostra bravi vai rivoli e Grazie. La Cariboli! La Cariboli! Dai, vieni! Dai! Allora... Dai! 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 Vedi che quando è fuori da tuare. Orcatrota... E vado a dirti che anche sulla loro meta... Sulla loro meta era un buono... No, ma la meta... Secondo era un cibo... Bene? No, no... E? No, no? E quando hai fatto un attimo capito... Come ragazzi! Vai, Rivoli! Brava, Rivoli! Brava! 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 In Rivoli, ancora! Io, me ne danno due stasera. Sì, Riboli! Dai, Riboli! Amparo, Riboli! Bravo, Sano! Sì, è il mio! Ma tu, ma di nuovo senza casa! Non dà, che cacchio! Va a casa prese! Togli, la togli, la togli, la! Sali, Riboli! Vai, Riboli! Ahia, ma chi plane? Sì, è la di là! Incomiabile, che mi ha pensato. Sì, è la di là! 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 ciao Lorenzo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.